Ogni anno i Lions Club di tutto il mondo organizzano il concorso Un Poster per la Pace riservato agli alunni delle scuole medie. Un vero e proprio concorso artistico che incoraggia i giovani ad esprimere la loro visione della pace che ha visto nel tempo la partecipazione di milioni di ragazzi di quasi 100 paesi nel mondo. I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema che quest'anno è la solidarietà è importante. Diverse le tecniche pittoriche utilizzate tra cui il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempera. I lavori sono molto vari e riflettono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. Questo è un concorso mondiale che il vincitore a livello mondiale sarà premiato all'ONU e a livello territoriale per le province di Alessandria, Spezia e Genova. Quest'anno premiamo i primi 100 classificati del nostro territorio qui al Teatro Civico. I poster passano attraverso diversi livelli di selezione. A livello internazionale la giuria, costituita da esperti rappresentanti degli oltre 350 mila ragazzi che partecipano al concorso, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di merito. Il vincitore del primo premio si aggiudicherà 5 mila dollari e il viaggio per partecipare ad una speciale cerimonia di premiazione. Ancora una volta i Laios dimostrano la loro generosità, i loro valori, in un'iniziativa importantissima perché tocca ogni giovane della nostra città e dentro ogni giovane c'è la speranza della pace che viene qui manifestata con questi disegni stupendi e ancora una volta dimostrano che non bisogna solo pensare, solo dire ma anche fare e per fare bisogna lavorare dentro ogni persona, costruire ponti di amicizia, ponti umani, relazioni e tutto questo per un futuro migliore.